Musica Questa sera in Piazza Duomo assisteremo al concerto più grande mai tenuto nel nostro paese. 500 cantanti provenienti da tutta Italia, Italian Gospel Choir che tradotto è il coro gospel nazionale. Talmente tanto nazionale che il capo dello Stato ha voluto riconoscere a questa formazione corale due medaglie di rappresentanza che certificano che l'attività musicale che questo coro esegue è a rappresentanza del nostro paese. Sono generi che abbiamo importato ma sappiamo dimostrare al bisogno che riusciamo ad avere quel quid in più non dico di diventare più bravi degli americani e degli statunitensi in generale però se dovessimo essere in un campo di calcio citando e facendo un parallelismo ce la potremmo giocare. L'Italia dimostra la sua grande capacità di sapere fare arte anche con un genere che forse con l'Italia c'entra ben poco e questo è Italian Gospel Choir lo stare insieme, la tanta positività e l'essere un qualcosa di unico e questa sera a Piazza Duomo lo vediamo. Sarà un bel viaggio dai classici del Gospel come Oh Happy Day, Amazing Grace passeremo ad artisti ovviamente afroamericani Abramni chiaramente conoscono di più i fruitori della musica Gospel per poi arrivare a quello che è il repertorio del nostro ospite nel repertorio di Donald Lawrence e quindi per gli amanti del Gospel sarà una grande sorpresa per quelli che magari lo ascoltano un po' meno questa sera si renderanno conto di che grande potenza abbia il Gospel come Oh Happy Day come Oh Happy Day come Oh Happy Day come Oh Whore come Oh amor